Eccoci qua ragazzi, bentornati, siamo in questo nuovo video su Decree U2 In questo episodio cambieremo completamente disciplina, faremo il drift usando questa macchina qui, Mazda RX-7, infatti lo si può anche notare dalle ruote anteriori Niente, voglio farvi vedere un po' come drifto, anche per cambiare un po' contenuto non portare sempre le moto, perché c'è tempo di portare le moto Quindi, andiamo subito in attività, street racing, drift e facciamo aeroporto Terminal D Così mi dite voi nei commenti cosa ne pensate, se ho capito come si drifta, se volete darmi consigli Accetto tutto ragazzi, anche critiche costruttive ovviamente, perché ovviamente inerenti al gioco Potete dirmi no, tecno, hai sbagliato lì, quindi mi raccomando Datemi tanti consigli perché sta diventando la mia disciplina preferita fare il drift Comunque eccoci qua, ovviamente Mazda stile Fast & Furious Tokyo Drift Bellissima ragazzi, questa macchina qui E dai, dai, cerco di dedicarvi questa vittoria superando anche i 20.000 punti Senza sbattere, perché quello è il mio obiettivo Oh, grande, grande Mazda ragazzi Sta già iniziando benissimo eh, guardate la barra del punteggio in alto, come sale Dobbiamo superare assolutamente quei 20.000 punti Uh, ci sta piacendo ragazzi eh Non sbattere eh, ti prego non sbattere, grande, aiutiamoci anche col nostro Uh, bomba ragazzi eh, grande Mazda Un minuto rimanente, ok Oh, che curva ragazzi, sta prendendo la macchina Ok, non sbattiamo Vai con le combo, vai con le combo Oh, oddio ragazzi Come la prende questa curva Oh, ragazzi quanti punti, mamma mia 272.000 punti L'obiettivo era 20.000 Non ho sbattuto neanche una volta, avete visto Neanche una volta ho sbattuto, 272.000 punti Oh Questa è stata veramente bella Mo proveremo la seconda usando la Lamborghini Perché c'ho la Lamborghini Aventador LP704 se non sbaglio E voglio provarla anche con quella Prendiamoci il bottino innanzitutto E cambiamo modello Infatti metteremo anche le prestazioni su questa Ah, che ancora non le ho messe Vedete, alcune cose mancano Poi come vedete non ho tanti pezzi perché Sto giocando da poco A fare il drift, ok? Non li faccio sempre Comunque adesso la prendiamo Ok, vabbè Ok, 107.000 punti ragazzi Se tutto va bene ce li immagiamo a colazione Come abbiamo fatto con la Mazda RX-7 Quindi non vedo il problema Ce la possiamo fare L'unica cosa è che questa macchina L'ho usata poche volte Quindi la sento pure un po' troppo Veloce per i miei gusti Però non ho paura Il conto di battere questi punti Non è un problema Poi guardate che Lamborghini ragazzi Tanta roba questa Lambo Vai arriviamo a 107.000 punti Abbiamo anche ancora il NOS Mega curva Oh yes Siamo già a 40.000 Vai Lamborghini Un minuto rimanente ragazzi Vai Lamborghini Fammi sognare Ti prego Fammi fare questo record Vai ragazzi L'abbiamo pure superato L'abbiamo pure stracciato Il record Bomba di Lamborghini Oh ma guardate dove la barra sopra Ragazzi Ok quanti punti 250.000 ragazzi Abbiamo spaccato tutti i livelli Abbiamo seriamente spaccato tutti i livelli Con questa macchina qui Ora non ci resta che provare l'ultima Di quelle che possiedo Cioè la Nissan Skyline Va bene Intanto prendiamoci sempre il bottino E ci montiamo su I pezzi ragazzi Su tutte le macchine Allora Ci resta da fare questa Con questa macchina qui Di pezzi Ok Non ne abbiamo tanti Però mettiamo il possibile Che possiamo mettere Ah ok niente Niente ragazzi Non posso mettere tanti pezzi Va bene Va bene Ci accontenteremo così Vai Facciamoci sempre la gara con questa Però innanzitutto facciamo Scegli Perché se no Non ce la da Scegli Ok Quest'ultima La faremo con la Nissan Skyline In prima persona Ragazzi eh Voglio dischiare La voglio fare così In prima persona Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa so fare Con questa macchina così In prima persona Sarà sicuramente Difficilissimo Ok Vai Obiettivo Se non sbaglio 107.000 punti Come prima Ok dai ragazzi Obiettivo 107.000 punti Quindi voglio riflettare sempre Non voglio fermarmi Neanche una volta Ok E siamo in prima persona Vi ricordo Quindi molto Molto difficile Non voglio riflettere sempre Non voglio riflettere sempre Mi sto concentrando Mi sto concentrando un botto Ragazzi Per fare Un record Ok Qua non abbiamo sbattuto Per fortuna Come gira ragazzi Vai Subito così Vai Vai Nissan Skyline Vai Ce la facciamo Ragazzi Oh Grande Bene Bene Buono 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 Abbiamo fatto anche questa Ragazzi 126.000 punti Obiettivo 107.000 In prima persona Potevo fare di più Avete visto Prima ho fatto Sopra i 150.000 Però questo Questa Era la mia prima volta In prima persona Quindi Capite che non è Non è facilissimo Ok E dai ragazzi Direi che con questo è tutto Perché Le prossime gare Sicuramente faremo Con macchine da corsa Con le serie Ferrari Lamborghini E non queste E vabbè Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Ok Alla prossima ragazzi Ciao 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 ciao